Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti di prevenzione del rischio sismico, connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Il decreto introduce la possibilità di adottare un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Il piano sarà composto da quattro attività. Uno studio di microzonazione sismica, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e un primo piano di misure per la mitigazione e un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area, il Dipartimento della Protezione Civile provvederà a una prima delimitazione urgente della zona di intervento. Inoltre, si definisce il piano di comunicazione alla popolazione per la diffusione della conoscenza dei rischi, con specifico riguardo alle persone con disabilità. Si prevede entro 60 giorni la definizione del piano di emergenza per il territorio interessato dal fenomeno bradisismico, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborato dai centri di competenza e che contiene le procedure da adottare in caso di aggravamento del fenomeno in atto. Si introducono misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture, di trasporti e di altri servizi essenziali. Quanto ai profili finanziari, l'owner complessivo monta ad un importo quantificato in 52,2 milioni di euro che sarà sostenuto integralmente dallo Stato.